Sta bene ed è stata ritrovata Valentina Timoncini, la 22enne residente nella frazione Aquiliana di Cese di Preturo, scomparsa nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Si trovava a Monte Ferrante, in provincia di Chieti, dove sarebbe giunta da sola domenica pomeriggio. Dopo aver vagato per il paese, una signora anziana del luogo la prima ospitata in casa e poi rifocillata, permettendole di passare la notte nella sua abitazione. Ieri mattina la notizia della ragazza, che era stata ospitata dall'anziana, ha fatto il giro del paese ed alcuni, dopo aver visto la sua foto sui media, hanno chiamato i carabinieri di bomba, coordinati dal comandante di stazione Vito Gian Lorenzo. Già in serata, la 22enne avrebbe fatto il ritorno a casa, accompagnata dai propri genitori. Prima di far perdere le sue tracce, aveva mandato un sms alla famiglia e al suo fidanzato con l'invito a non cercarla. Il telefonino poi era stato subito spento. La ragazza, che si era allontanata da casa dopo un litigio domestico, era andata via con un borsone. Nella mattinata le ricerche erano riprese in tutta la zona di Preturo, ma non si escludeva che la giovane avesse lasciato la città. La task force organizzata dai vigili del fuoco, coordinata dalla prefettura, era stata allestita nei pressi di Villa Letizia a Preturo, per i genitori e gli amici e di certo la fine di un'angoscia.